Finisce qui, finisce qui, il tempo dell'attesa è finito, questo è il tempo di Napoli, campione in Italia, 2023! Presidente, è un momento magico, innanzitutto grazie, 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 grazie! Voi mi avete sempre detto, noi vogliamo vincere e abbiamo vinto! E abbiamo vinto tutti insieme! E adesso, domenica con la Fiorentina, tutti qua per la grande festa! Grazie ancora a tutti quanti, grazie Presidente, è una serata storica, è un momento magico! Grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti! 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 Blue skies and golden sunshine fact for all the day we had and at the moment for other for 5 hours incomparable The American fans because as soon we had a completely here schedule and I read in the bad season and those beautiful blue skies and golden sunshine of today as also a sign of the victory of the my man the apoli football perché in ultimi giorni c'erano un'atmosfera molto buona e finalmente oggi fu fuori il sole ed è bello che il blu scuola e il blu scuola e il blu scuola, quindi per me questo è un altro signo per la nostra leggera vittoria beh, questo è il blu scuola e questo è il blu scuola e questo è il blu scuola e finalmente dal mio mitico keyword di GX 640 EPG 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 63025 se vuoi raggiungo la mia crisi non ti so se se vuoi raggiungo la mia crisi non è il blu scuola Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti